Volevo chiedervi se potevo andare alla festa di fine anno di Rosario Caruso. Caruso, Caruso? I miei non mi mandano alla festa di Caruso. Dovrò stare tutte le state con mio padre e andare in giro per le sezioni. Tu, complice della svolta di Occhetto. Cos'è? Il pioniere. L'ha rivista degli scout comunisti. Renato! Facciamolo pure noi. Che cosa? Un campeggio. In che fa dove stessi così? Campeggio comunista. Appunto. Oggi è il giorno in cui il compagno Belfiore e il compagno Magenta rifondano il reparto Antonio Gramsci dei pionieri d'Italia. Gloriosamente estintosi nel 1975. È vero che i femmini comunisti sono delle belle troie. Ma tu non eri fascista. Quando si getta di femmine, che me ne frega della politica a me. Dovevo liberarci lui. Che per caso hai visto Renato e Enrico tra ieri e oggi? Non mi sembra. Si può sapere cosa state facendo? Siamo venuti in questo bosco per rifondare un reparto dei pionieri. E che sono? L'organizzazione ricreativa dei ragazzi comunisti. Ma il comunismo è finito. Non qui! Senta signora, cercateveli voi intanto. Sono sicura a vedere la partita dell'Italia, ve lo dico io. Mio figlio non ci sarebbe mandato. Renato ti fa urso. ? Senta signora, compre la futura. Senta signora! E a開i paura. Mi fermiandsini? Mio figlio non ci sarebbe stría delle cose. Mio figlio non ci sarebbe prima. Senta che era da fare Barbara. Io vi interesse. Grazie a tutti.